Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo ai punti di 1.22. Non un 46. 79. E' uscita. E' uscita. 1.21. E' uscita. 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 C'era il caso diannata. E' uscita. Escritte. E' uscita. 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 Grazie a tutti. Quindi, cento più di cittadini, i due tempi che adesso vanno a puntare il suo, il nostro gruppo. Campani meno sette. Sì, sì. Cento quindici, la manca. Sìììììììì! Sììììììì! Sìììììììììììì! Sìììììììììììì! Sìììììììì! Siamo ai punti di meno due al prossimo passaggio! alberato 5 4 3 8 non è nulla non è nulla non è nulla non è nulla questo ha passato hai trovato uno o me l'hanno lo ho pensato? non hanno l'abbia perché non l'abbia più scomiglia 4 3 giorni poi me l'ha rimanato ma vicino? 9 km non troviamo niente vicino non c'è niente c'è un posto vicino che è quello B&B però era tutto pieno uno però non è nulla non è nulla ma non non è nulla non è nulla Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.